Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come pubblicare una foto sulla pagina Facebook di Arte per Te come condividere un vostro post fotografico questo vale sia per il corso di disegno che per tutte le cose che vorrete condividere con me sulla pagina Facebook innanzitutto accedete alla pagina Facebook tramite il vostro account di Facebook io qui sto entrando con l'account di Gabriele perché se lo facessi dal mio account avrei una schermata differente essendomi alla pagina quindi dopodiché vado su post perché io devo pubblicare sempre da post se voglio che un qualcosa di mio venga scritto per i compiti di disegno dovete scrivere qui tre messaggi, il nome, il cognome e l'anno di appartenenza al corso quindi cliccate su foto, caricate una foto che avrete già avuto l'accortezza di inserire sul vostro desktop o nel rullino fotografico del vostro cellulare a secondo che stiate usando un dispositivo fisso o mobile quindi clicchiamo su scegli, dopodiché clicchiamo sui tre puntini e pubblicamo ecco qua, la foto è stata pubblicata in maniera facile volete vedere dove vederla? andate qui su post delle persone che visitano la pagina cliccateci sopra e voilà, ecco qui la mia foto pubblicata nulla di più facile, non vi impanicate quindi pubblicare è molto semplice seguendo questi semplici passaggi buona pubblicazione a tutti e mi raccomando pubblicate tutto entro la mattinata a presto, ciao!